Ciao a tutti sono Simone di Simona e Simona, questo è Australos Simulator e come vedete dalla descrizione della missione che è in inglese, ma io mi tradurro a testa, dobbiamo aggiustare gli scudi del Space Shuttle, quindi sono sempre le solite missioni, no la musica di Kerbal, andiamo un po' avanti, eccoci qua, subito qui, con N si ferma tutto, andiamo ben in avanti, e subito di qua, N si fermiamo, sta andando con A, mi sto avvicinando, spero, sto toccando qualcosa, però non sto più andando, mi sto cappottando, anzi credo, com'è che si girava così, ok, giriamoci un attimo così, oddio, oddio, è difficile abbiacare questo checkpoint, ok, stiamo aggiustando il pezzo dalla finestra, nel finestrino, ok, vabbè, subito com'è vicino, ok, 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 Sto inizio? Sì, non è vero, ci sono tutti i metodi. Sto inizio? Sì, è vero, ci sono tutti i metodi. Sto inizio, è tutto inizio. Scegliamoci indietro. Eccolo, non capito, è indietro di qua ed è sotto. Eccolo là. Guardate come è pixeloso. Eee, ci siamo. GTV, power switch. Forza. Cam secure in the hand tool kit. Ok, il decoupling lander è tapet down, Joe. Eccolo. 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 Vediamo, dovrebbe essere subito qua di lato. Matt Wright thruster. Quindi qui dietro. Oddio, 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 oddio. Allora, finiamo in giro. Mi sa che stanno andando in animazione, è già giusto. Eccolo. Eccolo. Ok, and andiamo avanti. Eccolo qua. Eccolo qua. Oddio. L'ho paese o non l'ho paese? Non si capisce niente di sto gioco. Ah, è quello qua. Uno, un'altra volta. Un'ata, una volta. Un'ata, un'ata, ili strumento in. in pratica stiamo rimettendo a nuovo allo space shuttle ciao sim dove cacchio devo andare ah subito qua dietro ok ma vai devi andare di un pixel allunga il braccio un pixel pixel beh spero che sia l'ultimo poi se ne andavano molto più veloci ok top left wing manteniamoci un attimo ah sta girando intorno sta girando di qua e di qua no l'ho passata l'ho passata ma non ho capito dov'è sotto quale ala è left sinistra fermati ah eccolo minchia ho cominciato a fosse sull'ala ok abbiamo quasi finito le dette uscita ma spero che sia uno degli ultimi task ok quindi andiamo nello space shuttle non mi ricordo quale space shuttle è stato che è esploso proprio perché i pannelli termici erano stati danneggiati credo che fosse stato il challenge in columbia oh ok devo andare lì devo andare fermati ci sono anche i comandi per girare così no non so cosa è successo si è bloccato tutto Houston si è bloccato tutto ok con M mi sa che si mette in pausa non so come ci sta arrivando ma ci sta arrivando non vi preoccupate ok pi 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 mi sto ragionando 4 mensionalmente excellent good job no non ho paese excellent quindi mi ricordo di se vi è piaciuto il video e se vi ha fatto schifo il gioco queste texture non si possono guardare ma nemmeno nel menu sono fatte bene mi ha messo un gioco per l'oculus rift o per l'iPad cioè o lo fai per uno o lo fai per l'altro così è mezzo e mezzo l'oculus rift sull'iPad ma non lo so dicevo iscrivetevi commentate mettete un bel mi piace condividete il video e voi vi state perdendo le sue gesticolazioni sto dirigendo l'orchestra proprio e al prossimo video ah fateci sapere se non volete vedere più video nella strada simulator mi invento qualcos'altro c'è un altro giochi spaziali da farvi vedere alla prossima ciao ciao